Buonasera, come ti senti ad essere nuovamente eletto? Questa è la quarta volta che ricordo questa carica, è sempre un'emozione molto bella e questo perché lavorare in psili è un grande motivo di orgoglio. Sono cresciuto nel mondo dello sport praticando sport agonistico e anche vivendo lo sport dal punto di vista politico. Adesso sono al mio quarto mandato, porto la mia esperienza con l'obiettivo di migliorare la situazione della federazione e sapendo anche che non ci si deve mai fermare. Bisogna guardare la situazione cambiando anche i punti di vista, guardando le criticità e migliorandole. Grazie.